Noi stiamo investendo, abbiamo un ottimo rapporto con le scuole di lì, del territorio in particolare, ma stiamo investendo moltissimo nella formazione dei giovani, perché riteniamo sia un punto fondamentale per lo sviluppo di questo mercato. È un nostro modo per dare anche un supporto alle imprese, ai nostri clienti, nella formazione delle persone che poi andranno a lavorare con i nostri macchinari. I macchinari diventano sempre più complessi, questo c'è richiesto dal mercato, anche dai general contractor. Le lavorazioni devono essere monitorate, le macchine sono dotate di sistemi di registrazione, dei parametri dei manufatti che vengono eseguiti, quindi dei pali o dei micropali. Questo chiaramente crea una necessità che è quella di formare persone sempre di più all'utilizzo dei macchinari che non sono più, bisogna dirlo semplici come una volta, ma più complicati. Ci sono ampi spazi di miglioramento per quanto riguarda la sicurezza, ci sono degli stati che curano in modo un po' più maniacale l'aspetto della sicurezza, quindi la formazione che viene fatta verso gli operatori delle macchine deve essere per forza imperniata sul principio fondamentale del lavorare in sicurezza.